Fatte le elezioni fatta la Giunta, anche se forse qualche tassello deve ancora andare al suo posto a Palazzo Rosso, inizia la lista della spesa per Giorgio Abbonante. Ossia le promesse fatte in campagna elettorale arrivano in cassa per vedere se si trattava solo di parole o di sostanza. Oggi ci pensa la Casa delle Donne a ricordare al primo cittadino che lì, in piazza Monserrato, c'è uno spazio che per molto tempo ha fatto un lavoro fondamentale di aiuto alle donne che non trovavano in città altri sportelli a cui rivolgersi. Corsi gratuiti di italiano e aiuto alle donne in generale, molte le attività culturali ed è lì che è nata la cellula alessandrina del movimento ambientalista. La Casa delle Donne è una piazza di aiuto condiviso che è stata strenuamente difesa dagli attacchi della Giunta Cuttica che per molto tempo ha minacciato di sgomberarla. La storia è brevemente questa. L'ex asilo Monserrato era un immobile IPAB lasciato abbandonato. Alcuni anni fa un gruppo di giovani donne sono entrate dentro l'ex asilo, l'hanno rimesso a posto a loro spese ed hanno iniziato a farlo diventare un luogo di cultura e di aiuto. La Giunta Cuttica voleva sfrattarle perché occupanti abusive e invece di regolarizzare in qualche modo una situazione che era un posto sicuro e di aiuto per tanti, ma di fatto illegale, lo ha lasciato nell'ambiguità con lo spauracchio dell'arrivo della polizia per lo sgombero. Uno spazio necessario per la città di Alessandria è uno spazio difeso strenuamente da inizio del mese di maggio a oggi con un presidio permanente. Oggi, dopo due mesi ricchi di incontri, chiacchiere, pulizie, notte insonne, festa, il presidio alla Casa delle Donne si scioglie. Vogliamo regolarizzare la nostra permanenza della Casa delle Donne nell'ex asilo Monserrato, dicono, e aspettiamo di sapere con certezza quando sarà ripristinata l'acqua. Insomma, la Casa delle Donne chiama. Il sindaco risponde?